Questa faccia da scroto e Dietrich Glugge, il capo degli Illuminati, è mio acerrimo rivale. Non la posso guardare, europeo fino alla punta dei peli. Trova sempre un modo per romperci le palle. Qui ci aveva riempiti di carta igienica. Che bastardi artistai di bavaresi! Ogni anno Dietrich ci sfida nella Giochi di Potere, una competizione per il dominio dove il perdente deve letteralmente baciare l'anello del vincitore. J.R. perdeva sempre, ma ora che sono io al comando, l'Acognito si riprenderà al suo trono. In questo modo. Ho fatto troppo dettagliere. Troppe palle per i miei gusti. Userò i nanobot di Regan per potenziare il mio corpo. Avrò la forza, la velocità e le abilità per annientare quel pisellino di Dietrich una volta per tutte. Ah, vedrai, pisellino di Anonimi Anonimi. Distruggerò Rand da sola.